La grande mobilitazione internazionale e globale che è nata questa primavera non può che schierarsi senza sé e senza ma dalla parte della rivoluzione della Rojava, del confederalismo democratico, uno dei pochi esempi di un altro mondo possibile, uno dei pochi luoghi sulla terra in cui si è riusciti a costruire un'alternativa al capitalismo, alla civiltà consumista che ci circonda. Come attivisti di Fridays for Future Milano non possiamo che essere presenti in questa piazza e che ricordare che saremo sempre al fianco della rivoluzione, della Rojava e di tutte le rivoluzioni nel mondo che metteranno al centro il femminismo, l'ecologia, la democrazia reale dal basso.